Niente di nuovo sotto il sole, questi sono i discorsi di sua vita sobria di Alviso Luigi Cornaro, insomma qui è dedicata anche a una scuola qua a Padova, dove raccontava come lui a un certo punto avendo cambiato stile di vita, riusciva a salire le scale, velocemente a correre anche a un'età avanzata. Stile di vita basato su un'alimentazione corretta, sull'esercizio fisico e chiaramente riducendo il sovrappeso e l'obesità e mantenendo una certa forma fisica. Una delle cose che va più di moda sulla vita sobria, quindi legato alla vita sobria, è sicuramente quella pratica che voi conoscete che si chiama The Caloric Restriction, di cui vi faccio solo un cenno perché vi parlerò in realtà del digiuno, che cosa ha fatto diversa dalla Caloric Restriction. La riduzione calore che semplicemente vuol dire mangiare meno, mangiare meno come quantità e alcuni autori affermano che questo tipo di approccio ha una serie di vantaggi, per esempio a livello di danno del DNA, ridurre il danno del DNA, ridurre i fattori di crescita come IGF-1, l'ormone della crescita, e migliorare i processi di riparazione. Ma come tutte le cose ha il rovescio della medaglia, se io riduco i fattori di crescita chiaramente magari riesco a prolungare la vita, ma devo anche stare fermo, non devo muovermi, non diventa più un'attività attiva perché sono fattori che sono legati al mantenimento del muscolo. I meccanismi legati a questa Caloric Restriction, questa riduzione, quindi il digiuno di cui vi parlerò, il digiuno intermittente non è una riduzione calorica, è semplicemente una modifica della tempistica dell'assunzione degli alimenti, ma fondamentalmente la Caloric Restriction è basata anche questa su una riduzione del danno radicalico, una riduzione della quantità di insulina, si vede? Non si vede? La faccio vedere? Eh? Si vede la freccia? Io non la vedo, ma ve lo faccio così, e allora dell'insulina, e insomma una serie di effetti fondamentalmente benefici, ma vado avanti senza parlare troppo di scienza, e vi parlerò poi di esercizio, quindi vi parlerò di alimentazione sana, quindi di digiuno e di esercizio. L'esercizio ha tutta una serie di effetti positivi, questa è un'immagine molto complessa, ma fa vedere come tutta una serie di modifiche a livello molecolare che esercita l'esercizio, che non è solamente il mantenimento del muscolo. In più, quello che è interessante è che c'è anche un dialogo tra i diversi sistemi, cioè il muscolo, l'esercizio, questo esercizio di forza, questo esercizio di endurance, hanno effetti entrambi sul nostro organismo, io sono più amante di questo tipo di esercizio, l'esercizio con i sovraccarichi, con i pesi, questo non vuol dire che dobbiamo metterci a sollevare quintali, ma il lavoro contro la resistenza, il resistance training, il sollevare dei carichi, ci permette di mantenere la funzionalità del sistema muscolare, ma non solo. Questo tipo di allenamento ci permette anche di influenzare il tessuto adiposo, ci permette di influenzare anche a livello cerebrale. Poi parleremo anche di esercizio. Tornando al digiuno, il digiuno non è una novità, il digiuno lo troviamo per esempio in questo libro Dieta parca e salute, lineamenti psicofisiologici sulle antiche regole religiose e si parla del digiuno rituale, della quaresima che faceva parte della nostra cultura che adesso è stata un po' abbandonata, ma faccio leggere questo passo che è bellissimo. D'altronde la giornata di digiuno intervallare settimanale ad esempio a sole, proteine e vegetali è dimostrato che prepara l'organismo a utilizzare in pieno più prontamente, più completamente la successiva razione alimentare. Ovviamente questo non è vero, però vi dà un'idea di cosa si pensava una volta del digiuno. Il digiuno è presente in tutte le religioni, questo è nella chiesa antica. Se noi sfogliamo nel Corano, nel Mabarat, nell'Antico Testamento, abbiamo tantissimi passi che parlano del digiuno. Non vè religione che non contempli il digiuno come parte delle sue pratiche. Cosa intendiamo il digiuno? Il digiuno è l'astensione di ogni alimento per un periodo di tempo, anche limitato, vedremo un digiuno intermittente durante la giornata. Può indicare anche l'uso di prendere cibo una sola volta al giorno, la monofagia. E poi il digiuno per estensione va a comprendere anche l'estensione dalle pratiche funzioni corporee, attività sessuale. Ma lo troviamo anche indicato come terapia. Se io vi dicessi che il digiuno come terapia quasi farmacologica è presente anche nel Vangelo, lo troviamo in Matteo 17, 14, 21, nell'episodio dell'epilettico guarito. Voi andate a leggervi questo episodio e in questo episodio alla fine dice che questa razza di demoni, quindi l'epilettico, non si scaccia se non con la preghiera e il digiuno. Ora, il digiuno induce, un digiuno prolungato per più di 3-4 giorni, induce uno stato particolare metabolico nel nostro organismo che si chiama chetosi. Cioè il nostro organismo non utilizza più il glucosio, il sistema nervoso centrale, non utilizza più il glucosio a scopo energetico, ma tende a utilizzare delle molecole che si chiamano corpi chetonici. Ora, questa chetosica è molto spaventa i colleghi medici, perché è associata al diabete scompensato, in realtà è un meccanismo fisiologico. E si sa fino dal 1920 che viene usata come terapia per l'epilessia. Veniva usata come terapia per l'epilessia. E quindi chi di voi è religioso può pensare che sia la preghiera a guarire l'epilettico, chi invece è un approccio più scientifico probabilmente è stato il digiuno prolungato a indurre uno stato di chetosi e quindi a avere un effetto sul sistema nervoso centrale, quindi una guarigione del soggetto. Il digiuno può essere fatto da 12 ore, 12 ore è già considerato un periodo di digiuno, fino a tre settimane. Durante il mese di Ramadan sappiamo che i musulmani digiunano dal tramonto all'alba e la cosa importante che volevo sottolineare per quello che ho parlato prima di calorie restriction è che il digiuno è diverso da restrizione calorica. La restrizione calorica diminuisce la quantità di calorie da più del 40%, fino al 40% delle calorie introdotte. Il digiuno invece no, semplicemente io riduco o sto a stensione del cibo durante un periodo, ma non è detto che io riduca l'assunzione totale di cibo. In inglese invece starvation, che è una cosa diversa, vuol dire la malnutrizione. Quindi noi non parleremo di malnutrizione, ma parleremo di come utilizzare il digiuno a scopo terapeutico. Il digiuno ha degli effetti metabolici e degli effetti ormonali ben precisi e cambiano questi effetti a seconda che si faccia per 8-16 ore e 2-3 giorni o oltre i 4 giorni. Diciamo che i meccanismi sono diversi. Se noi digiuniamo per alcune ore fino a 2 giorni, abbiamo alcuni meccanismi. Se digiuniamo oltre i 4 giorni, entriamo in un altro meccanismo. Questo ovviamente il MEC me l'ha spaginato, questo vuol dire digiuno, questa è la calorie restriction, qui in mezzo abbiamo la chetosi. Io posso digiunare senza andare in chetosi, di quello di cui vi parlerò oggi. Non parleremo quindi di chetosi, che eppure ha delle indicazioni terapeutiche importanti, ma quello che fa il digiuno senza le varie chetosi. Quindi immaginiamo di aumentare la finestra in cui noi smettiamo di mangiare oppure di introdurre un giorno di digiuno, se adesso è molto di moda anche per televisione, avete sentito i vari servizi delle Iene sul digiuno, eccetera. Ma non è una novità, sono cose che si studiano da molti anni e che adesso è venuto fuori, c'è il libro, tutte queste cose qui. In realtà non è che io sto seguendo la moda, queste cose quali studiavo già un po' di tempo fa. Il digiuno agisce in modi molto complessi e vari su diversi aspetti dell'organismo. Questo è un lavoro pubblicato appunto da Walter Longo, Madsen, un paio di anni fa. Appunto Valerlongo adesso è diventato famoso in Italia per la dieta mima o digiuno, ma i dati sono anche più antichi. Il digiuno ha degli effetti sia a livello del sistema nervoso centrale, a livello cardiaco, a livello epatico, a livello muscolare, a livello tessuto adiposo, a livello intestinale. Insomma, sembra che questo periodo di astensione dal cibo abbia una serie di effetti benefici. E' chiaro che bisogna saperlo utilizzare. Una volta, se vi ricordate, c'era il giorno di digiuno settimanale, si usava a fare il giorno di digiuno settimanale, anche perché noi siamo programmati per accumulare grasso, perché ci siamo evoluti in tempi di carestia, non c'erano i bar, le pasticcerie, i supermercati, quindi si mangiava e poi non si sapeva quanto si sarebbe mangiato di nuovo. Quindi abbiamo dei meccanismi estremamente efficienti nel nostro organismo per accumulare grasso. Tutti voi avete sperimentato quanto facile sia mettere grasso, per la maggior parte delle persone, quanto difficile sia togliere il grasso. E parlando di invecchiamento, l'accumulo del tessuto adiposo non è semplicemente della zavorra in più che si porta indietro, ma ha un effetto, quello che Franceschi, Claudio Franceschi, ha definito l'inflamaging, un fenomeno di infiammazione del tessuto adiposo che porta con la riduzione del muscolo. Quindi in realtà è molto facile ingrassare, è molto difficile per la maggior parte delle persone. Se voi avete un amico o un'amica, soprattutto odiata, che mangia quello che vuole e non ingrassa mai, ognuno di voi avrà un amico che ha questa fortuna, che mangia quello che vuole e non ingrassa mai, ecco, consolatevi che se fosse vissuta 5.000 anni fa probabilmente sarebbe morta durante i periodi di carestia. Magra consolazione in tutti i sensi, ma insomma, questo e quello. Sul muscolo il digiuno ha un effetto interessante, che è questo. Questo è una governante, è il housekeeper, la governante del tessuto muscolare, è il meccanismo dell'autofagia. In dipartimento da noi abbiamo uno dei massimi esperti mondiali di autofagia, che è Marco Sandri, e tra l'altro è un argomento estremamente di moda, perché quest'anno il giapponese Yoshiro Oshume ha vinto il premio Nobel per i propri studi sull'autofagia. L'autofagia è un meccanismo, vi sto banalizzando, molte cose sono un po' più complesse, è un meccanismo proprio legato a questa immagine qui, cioè di eliminazione delle strutture danneggiate, è un meccanismo ben controllato, tutta una serie di meccanismi molto complessi, che non andremo a vedere, che non ci interessano, ma estremamente ben controllato, per rimuovere strutture danneggiate. Ecco, i studi ci dicono che il periodo di digiuno aumenta questa autofagia, quindi migliora quelli che sono i meccanismi di rimozione delle strutture danneggiate nei nostri tessuti, quindi migliorando quello che poi è l'efficienza del tessuto stesso. Uno dei meccanismi di stimolazione dell'autofagia, questo è un meccanismo fondamentale per la preservazione della funzionalità dei nostri tessuti, in questo caso del muscolo, è proprio il periodo di digiuno. E quindi il digiuno sembra proprio agire su questi meccanismi, io vado avanti. Quindi già 16 ore di digiuno sembrano attivare tutta una serie di meccanismi di igiene, per esempio coinvolti nel metabolismo degli zuccheri, nel meccanismo dei lipidi, e in quello ossidativo. È quello che noi chiamiamo l'intermittent fasting o timelestated feeding. Cosa vuol dire? Abbiamo diverse categorie, una di quelle di cui vi parlerò io. Praticamente si mangia, entra in una finestra di otto ore, e si digiuna per 16 ore. Che può essere fatta? L'ultimo pasto alle otto di sera, e il primo pasto all'ora di pranzo, quindi saltando la colazione. Ma la colazione è un pasto importante, ma che le 30 proteine, eccetera. Questo è un approccio di tipo diverso. Oppure io posso, chiaramente faccio la colazione, e poi digiuno, quindi non faccio la cena. Chiaramente se abbiamo, qua bisogna capire, perché gli studi che sono stati fatti, non prevedevano nessuno, questo intermittent fasting, ma c'era un pasto in realtà, dove mancavano le proteine. Quindi questo è ancora da chiarire. Oppure si può fare 5 giorni di alimentazione, 2 giorni di digiuno, che è un po' più difficile, queste 2 giorni senza mangiare è un po' più difficile. Oppure l'ADF, l'alternet day fasting, che è un giorno di digiuno, non totale, 25% delle calorie, tutte tra mezzogiorno, quindi è un unico pasto, e l'altro giorno invece si mangia normalmente. Gli studi su questo tipo di approccio sono abbastanza interessanti. Ad esempio, è stato dimostrato un miglioramento del profilo lipemico nei soggetti che anche con un high fat diet facevano il digiuno intermittente. Altri studi che dimostrano, ad esempio, una riduzione del peso corporeo con questo digiuno intermittente. Non ci sono studi, non c'erano studi sull'associazione esercizio fisico e digiuno intermittente. Cosa succede? Perché se io faccio il digiuno, molto spesso poi non ho forza, devo stare fermo, anche nella caloric restriction. La caloric restriction, certo, migliora molti indici, ma poi il soggetto è fiacco. Invece questo, questa intermittent fasting, cioè questa riduzione della finestra temporale in cui si mangia, sembra avere degli altri effetti. Mettendo insieme le due cose, dobbiamo capire se mettiamo insieme l'esercizio con l'intermitto di fasting, parlando di muscolo, parlo in questo caso di muscolo, cioè noi riusciamo a mantenere il muscolo esercitandoci e allo stesso tempo facendo una sorta di digiuno. E questo è importante, perché il muscolo, il professor Carraro mi insegna, è fondamentale per il benessere dell'anziano, non in quanto anziano, ma in quanto studioso di muscolo, non mi permetterei mai. È fondamentale per il benessere dell'anziano e come il professor Tessari ha mostrato prima, ha tutta una serie di funzioni estremamente importanti. E soprattutto il muscolo è un elemento plastico, si adatta alle necessità, cioè chiaramente un bodybuilder ha il suo aspetto, il suo muscolo, che si è adattato alla richiesta, si è adattato allo stimolo che viene dato. D'altra parte il professore, invece che non è un bodybuilder, e ho messo l'immagine a posto per farvi vedere, non c'è da bodybuilder, ha altre esigenze, ha altre esigenze del muscolo. Quindi, ancora una volta, sempre la bilancia, però ho fatto vedere in un altro modo che avete visto prima, siamo in equilibrio tra il catabolismo e l'anabolismo. E un altro modo di vederlo è questo, cioè da una parte, voi vedete, abbiamo tutta una serie di fattori che sono anabolici, l'esercizio, gli steroidi anabolizzanti, il testosterone, i beta-duagonisti, la GF1, lo stretch forzato, gli aminoacidi. Dall'altra parte abbiamo invece tutti gli elementi che ci portano a una perdita di muscolo, quindi il disuso, ahimè l'invecchiamento, la miostatina, i glucocorticoidi, le citochine, anche il digiuno. Il digiuno, sì, è chiaro che se faccia un digiuno prolungato una settimana perdo muscolo. Per questo bisogna bilanciare le cose. Se noi abbiamo un aumento della parte blu della bilancia, avremo questo effetto. dall'altra parte invece se noi incrementiamo l'esercizio, le proteine, lo stretch forzato, possiamo raggiungere un quest'altro risultato. Ok? Allora, cosa sappiamo di digiuno ed esercizio fisico? Beh, la maggior parte delle cose che sappiamo sono legate al Ramadan. Molto studiato, Ronald Mogan è il responsabile del CIO, del Comitato Olimpico Internazionale per quanto riguarda la nutrizione di un caro amico, hanno scritto diversi articoli sul Ramadan. Quello che ci dimostra la ricerca sul Ramadan, che è un tipo di digiuno particolare, si digiuna dal tramonto all'alba, quindi per 16 ore, 12 ore, insomma dipende. Alba al tramonto? Scusate, no, si digiuna dall'alba al tramonto, scusate, si mangia solamente quando è buio, è una versione, si mangia solo quando è buio, c'è anche il trucco di un filo bianco e un filo nero, quando si riesce a distinguere il filo bianco e il filo nero si mangia, che apre una caratteristica particolare che inverte il ritmo circadiano, noi non siamo dei topi che siamo attivi di notte e non di giorno, quindi mangiare solamente di notte cambia un po', per gli sportivi olimpionici questo crea un po' di problemi, ma sta di fatto che gli studi sulla Madame hanno dimostrato che non ci sono effetti negativi sulla prestazione. Su il digiuno intermittente normale, quindi non il Ramadan, ci sono solamente due studi, questo è un studio fatto da Tinsley, ci sono anch'io in questo lavoro, che ha dimostrato fondamentalmente non c'è nessuna modifica sulla forza facendo un digiuno intermittente che è dalle 20 di sera alle 13 del giorno, quindi dalla sera fino all'ora di pranzo, saltando la colazione. Un altro studio che abbiamo pubblicato recentemente invece, ci sono andati a vedere anche altri fattori e questo abbiamo fatto anche delle indagini sulle citochine infiammatorie, quello che abbiamo visto è che col digiuno intermittente mantenendo le stesse calorie, i soggetti facevano tre pasti al giorno, solo che i pasti invece di essere alle un gruppo faceva alle 8 del mattino a pranzo e a cena l'altro gruppo invece faceva all'una alle 16 e alle 20 quindi ristringeva semplicemente la finestra ma la distribuzione dei macronutrienti delle calorie era la stessa anzi leggermente diversa perché chiaramente all'ora di pranzo non facevano la colazione ma mangiavano ma le calorie erano le stesse tutti i giorni per due mesi erano soggetti giovani in questo caso sani ma questo è un studio preliminare quello che abbiamo visto è una diminuzione di grasso un mantenimento della massa magra quindi non avevano perso muscolo chiaramente negli anziani dobbiamo vederlo ho delle idee ma adesso le vedremo e la cosa interessante è che il digiuno intermittente che è la colonna blu le colonne blu che vedete c'è stata una riduzione di tutte le citochine tre citochine infiammatorie quindi una riduzione di questi comunque avevano già dei livelli bassi ma si era ulteriormente abbassato con invece nell'immagine sotto che sono le colonne bianche un ad esempio un aumento di altri ormoni che sono legati anche questi a una riduzione della condizione di infiammazione e a una riduzione dell'appetito cosa non molto può essere vista buona come non buona c'era stata in questi soggetti una riduzione del testosterone basale e dell'AGEF1 allora cosa possiamo dire da questi dati che il digiuno è sicuramente un approccio terapeutico conosciuto da molti anni i meccanismi di azione sono cominciano a essere noti solo adesso è sicuramente collegato nel free living a una riduzione dell'apporto calorico a un aumento aspettativo di vita e influisce positivamente su diversi fattori legati a salute può essere maneggiato più facilmente cioè fare questa finestra temporale più facile che fare due giorni di digiuno a settimana che è più complicato ha effetti positivi su parametri a salute su soggetti sani mantiene la massa muscolare e riduce gli indici di infiammazione e in caso di soggetti che debbano mantenere la massa muscolare è chiaro che questo non va protratto per molto tempo non potete farlo 12 mesi all'anno alcuni soggetti di questo studio hanno proseguito hanno proseguito il ci hanno preso gusto hanno proseguito noi li abbiamo rimisurati dopo un anno dopo un anno nel diciamo mangiando normalmente avevano ridotto la quantità calorica questi soggetti normalmente mentre durante lo studio era stata mantenuta probabilmente se voi fate questo digiuno intermitente per video lungo cominciate a mangiare di meno e questo chiaramente va monitorato perché nell'anziano questo potrebbe creare problemi sicuramente ha un vantaggio fa risparmiare se mangiate meno e quindi risparmiate ringrazio i miei collaboratori e disuniamo ringrazio voi per l'attenzione grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti